Oggi parliamo di fotografia, pioggia e ombrelli. Un viaggio sotto agli ombrelli, alla ricerca degli odori, delle sensazioni, dell'umidità che una foto ci può suggerire. Sono andata su quel marciapiede almeno tre o quattro volte nella mia vita, a pochi passi dal cimitero di Montparnasse, sulla riva sinistra della Senna, al quattordicesimo arrondissement. Ma, anche se avevo poco tempo, non ha mai piovuto. Lui, che ha scolpito la storia dell'arte con la faccia sporca e quell'andatura sgangherata che va di traverso, che non raccatta perché ha imparato a non scodinzolare, che attraversa un boulevard senza farsi travolgere dal traffico, ma che sa, per intuito, che gli potrebbe capitare un disastro da un momento all'altro. Giacometti attraversa Rue d'Alesià allo stesso modo del cane da lui ritratto in quella celebre scultura. Questa somiglianza è qualcosa di torbido e meraviglioso, qualcosa di irrisolto, qualcosa che l'arte stessa non sa spiegare, che va oltre. Ecco perché non si ripara dalla pioggia. Ecco perché l'ombrello non serve a tutti. Giacometti non si pone il problema. Prende sempre tutta l'acqua di Parigi perché è nato bagnato. E Cartier, Cartier-Bresson, quel diavolo di un Cartier-Bresson cosa fa? Lo acchiappa quando è bagnato da strizzare, quando ha la testa ruffata dentro il collo, con quei capelli che scappano dalla testa, dentro il bavero dell'impermeabile sfilacciato. Sono Roberto Carlone e questo era uno splendido testo di Ambra Craighero. Vi parlo spesso di fotografie, a partire dai fatti della settimana. Una settimana che ha visto crescere le visualizzazioni sul canale YouTube ed aumentare le iscrizioni, oltre alla pioggia incessante. Per gli iscritti, per non perdere i nuovi video, attivate le notifiche. Mi raccomando! E all'improvviso, come fossimo a suoi fatti al caldo inverno, piove. E piove tanto e comincia a fare freddo. Ancora ancora, quando c'è bel tempo, tutto è più sopportabile. Ma quando piove, il tempo non passa più, tutto diventa più triste, tutto sembra non avere più fine. Senza futuro, senza speranza, piove fuori. E piove anche dentro. Dentro. E piove anche dentro. E piove anche dentro. E piove anche dentro. Piove anche dentro. e se poi esci senza ombrello è ancora peggio quindi voglio fare un omaggio agli ombrelli in fotografia ne ho trovati tanti estetici, reali, zuppi d'acqua divertenti quando si fotografa sotto la pioggia c'è sempre uno sguardo obliquo la rigidità che si ha camminando si trasmette anche alla macchina fotografica paurosi ma divertiti al medesimo tempo c'è chi ne ha fatto un dato estetico come Richard Avedon a cui subito ha fatto lo sberleffo Martin Muncaxi sembra un ritorno indietro prima salto di là e poi dopo un poco di tempo ahimè si ingrassa e ritorna con slancio e leggerezza andare in giro con ombrelli è una questione di equilibrio equilibrio precario paura di scivolare, di cadere tutto è più instabile ma anche divertente e questo Rodney Smith ce lo dichiara in ogni sua foto e chi salta anche è Richard Avedon fotografato da Henry Lartig e non mi si dica che sono fuori tema perché lo sapete nella fotografia di studio si utilizzano gli ombrelli per riflettere e diffondere la luce per annullare le ombre e lo vedete sullo sfondo l'ombrello dello studio chi ha giocato tanto con la fotografia è stato Robert Duanot si dice così Duanot in francese che ha fatto una serie dedicata al violoncello e al magico violoncellista Maurice Bucket che è uno sciatore un attore uno scrittore un regista per il musicista la vera compagna di vita è il suo strumento cosa si fa per lui è il più importante amore maniacale simbiosi vero amore altra foto divertente sono le monachelle sotto l'acqua in gita non so di chi sia ma mi piaceva tanto e poi Augusto Cantamessa fotografo italiano 1927 torinese che ci regala queste due meravigliose foto con ombrelli qui sembrano sospesi nel tempo come se fossero su di un tetto alti e sopra di loro il cielo non è una foto chiusa è aperta e si guarda lontano e la seconda è anche divertente chi non l'ha mai fatto da piccolo io lo faccio ancora adesso Cantamessa è maestro a riscoprire in momenti semplici e strizza l'occhiolino rendendoci complici e portandoci in questo mondo che vive la bimba chiusa sotto questa tenda a sognare protetta e nascosta sotto la pioggia è un altro mondo poi Dennis Stock porta tutto ad una solennità clamorosa qui è la pioggia ad essere protagonista perle e luce su abiti e ombrelli eleganti ma c'è sempre chi non ce l'ha un ombrello così lo segui in un altro continente e in un altro tempo Satokinagata lui gioca con tutte quelle goccioline che dissemina in ogni sua foto ovunque dappertutto CINONDA la seduzione delle goccioline sui vetri colpisce anche me una foto scattata a Bilbao dalla finestra del bar del museo di arte moderna lo vedi passare mentre fai colazione lasci tutto ti avvicini al vetro gli altri ti guardano come fossi un pazzo che vuole lanciare contro vuole lanciarsi contro la vetrata ma non si può perdere tempo anche se hai solo un cellulare N70 che permette di stampare al massimo una foto di 17 per 9 e senza possibilità di controllarlo nemmeno in postproduzione eccola qua per me è una tra le più belle che abbia mai scattato e poi c'è un maestro di ombrelli tagliati sbilenchi colorati appannati e si chiama soul lighter che riesce a trovare eterne diverse variazioni sul tema della pioggia e degli ombrelli tagli strani un continuo gioco di celare svelare nascondere accostamenti di colori che si saturano nelle ombre poesia suggestioni le sue sono storie e si avverte l'umidità delle sue foto e la vera protagonista è sempre l'acqua acqua che scivola sugli ombrelli che corre sui vetri sapete quanto è difficile fare belle foto dall'interno delle auto ci riesco oppure ci racconta della neve del disagio che crea in città e che ci dice tutto quel freddo che improvviso arriva e è pungente nonostante il primo piano sia a fuoco e sia il semaforo il vero protagonista è l'ombrello pioveva quel giorno lo ricordo perfettamente acqua dappertutto l'ombrello mi riparava l'impermeabile anche le scarpe no da lì entrava tutto il freddo del mondo e poi non stava fermo ma con l'umido ti entrava nelle ossa a volte ci volevano giorni per toglierselo da dentro ogni giorno ogni notte pioveva e lei non arrivava mai ma io aspettavo tenace e zuppo il suo passo leggero mi ha spedito quel suo ombrellino e rinchiudersi sulle spalle stretta 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 sarebbe arrivata per me quando la vidi non era come volevo non era sola era abbracciata stretta avvinghiata era il mio tempo che se ne andava avevo perso il tempo per un'illusione bagnata fradicia inutile lei mi aveva dato l'occasione alzai il bavero e così me ne andai per sempre lasciando il mondo all'acqua una foto che a me mette tantissima allegria è questa di Ouija e c'è tutto il taglio insolito dall'alto i riflessi sugli ombrelli e lo sguardo divertito di chi scopre che qualcuno scatta quanto è bella è la complicità quando c'è una foto e un fotografo sembra un burattino l'uomo sullo sfondo e i ragazzi iraniani in primo piano guarda altrove e si diverte di questa neve il fotografo è Murat Yazar voi tutti sapete della passione che provo per Vivian Mayer quanto l'ho studiata ci ho fatto uno spettacolo e anche ho scritto un libro ha un gusto per le persone riesce a catturare e se le rende sempre complici nonostante la sua complessità e ricchezza in un freddo siderale vedete le donne tentano di ripararsi sentite la fretta che provoca la pioggia e la stessa sorte tocca all'anziano di Puerto Rico in uno dei suoi meravigliosi viaggi intorno al mondo ma un uso diverso sempre lei la meravigliosa Vivian Mayer ce lo presenta da una piazza francese a Saint-Julien a Champs-Or negli anni 50 quando lei torna nella terra dei suoi avi il giorno del mercato e tanti tanti ombrelloni quasi più che la gente che lo affolla e la pioggia se ne va e ci presenta una foto meravigliosa raggiante di Robert Capa con Picasso e Françoise Gillot il doppio uso dell'ombrello salva dalla pioggia oppure diventa trionfo della bellezza che protegge dai raggi del sole pure Cartier-Bresson che coglie certi amori gentili educati intimi rilassati ma andiamo al gran finale con questa foto di Robert Whittaker dei Beatles sotto gli ombrelloni è una foto che di solito non si vede è assurda con lo sfondo dipinto e omaggiamo Monica Vitti la sua bellezza innocente in questa foto di un catalogo di ombrelli fotografia superba di Marisa Rastellini e chiudiamo con l'eterio sospeso Luigi Ghirli con questi due ombrelloni a Cervia così chiudiamo con questa estate dolce come l'estate degli anni 70 e quell'innocenza dei due ombrelloni sghembi come gli amori dell'estate ecco questi erano gli ombrelli delle foto nella pioggia uno mio gli altri di splendidi maestri Henri Cartier-Bresson come si dice in Francia Richard Avedon Martin Muncaxi speriamo Rodney Smith Elio Terwitt Henry Lartig Roberto Hano Augusto Cantamessa Dennis Stock Satocchi Nagata Saul Leiter Ouija Murat Yazar Vivian Meyer Robert Capa Robert Whittaker Marisa Rastellini e Luigi Ghirri Sostenete la mia ricerca e la mia produzione con una donazione su tipi tip come mancia seguito da 3e bit.ly slash sostieniroberto qui sotto trovate più informazioni e nei link così il canale resta libero da pubblicità e posso continuare a produrre video per tutti per far crescere la rete e mi raccomando cercate fotografie da appartamento sul mio sito robertocarlone.it fotografie da appartamento anche questo è un bellissimo progetto intenso e delicato una sinfonia multimediale online presento questo spettacolo nato per il web in cui racconto attraverso fotografie e musiche la mia casa bene vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video sempre su questo canale a cui non mancherete di iscrivervi sentite la pioggia che ritorna quindi chiudiamoli questi ombrelli camminiamo cantiamo sotto la pioggia tutti insieme vi aspetto alla prossima ciao ciao